A Torino il presidente reggente della Corte d'Appello, Giancarlo Girolami, ha inaugurato l'anno giudiziario piemontese. In occasione dell'evento, le relazioni riguardanti l'attività svolta dagli organi giurisdizionali civili e penali sono state inserite sul sito della Corte d'Appello di Torino. Tra queste compare anche il contributo del Core con Piemonte, grazie all'attività di conciliazione posta in atto nelle vertenze tra cittadini, aziende e società di telefonia, tra gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la riduzione del contenzioso nelle aule di tribunale. Alla cerimonia hanno presenziato tra le autorità il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, e il presidente del Corecom, Bruno Geraci.